guardate che belli questi vasetti, quel cestino un po' ciabiscito, guardate questo qua, questo è bellissimo, è proprio 1,90 euro, lo voglio prendere, è proprio carissimo, guardate che bello, è la più bella del mondo, si gongola da oggi, si gongola, e poi c'è questa che fa tutto tipo per le porte da finestra, così, carino no? ciao ragazzi, ciao ragazzi, top, benvenuti in un nuovo vlog, fa freddo, si sta bene, dai, non fa freddissimo, si gongola da oggi, si gongola, io sono uscita poco questa, pensiamo ancora la cipollesca, molto capponesca, e andiamo, pure rima, e andiamo a lunes, possiamo fare la spesa allora, sono a casa, mi sono pigiamizzata, e nel frattempo, da stamattina che siamo usciti a fare un po' di commissioni, ho fatto tipo mille cose, sono distrutta, ho dolori ovunque mi sono uscita il pigiama, questo qua, guardate, questo qui di mamma verso l'aereo, che è bellissimo cioè, questo verso l'aereo fa veramente Natale, è fatto stra bene, cioè, guardate, l'ho preso da Primark, ovviamente, dove trovi la roba bellissima, se non da Primark, da Primark che tra l'altro, adesso, tra qualche giorno, ci andiamo da Primark, andiamo io, Davide, forse viene anche mia suoccia, non lo so, comunque andiamo io e lui è veramente tanto, 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 tanto tempo che non andiamo da Primark, però avevo altre priorità prima, adesso però, che siamo sotto Natale, si va da Primark anche perché lì non c'è solo Primark, ci sono tutti i negozi, insomma, che mi servono, anche per fare i regali, Natale, così, le cose e mia figlia quest'anno mi ha chiesto una cosa diversa, mi ha chiesto un voucher di Ryanair, qualcosa, per viaggiare e, però, vabbè, comunque, gli farò lo stesso, anche altri regali, ovviamente, non dico cosa, perché, comunque, è sempre bello aprire i regali a Natale e, niente, vi faccio vedere che ho rifatto, stamattina, l'ho rifatto perché è stata carina mia nipotina però, come avete visto dal vlog precedente, ieri non ho fatto video, ieri non ho fatto video, ieri che era domenica però, sabato, che vi ho fatto il vlog, che vi ha fatto l'albero di Natale, avete visto che hanno, tipo, giocato come se fosse una spada l'albero, un pezzo Dennis, un pezzo Malika e, quindi, dopo, mi sono accorta che era, praticamente, tipo, una turra di Pisa e, poi, era tutto messo in modo sbagliato, gli addobbi, io, proprio, sono maniacale mi piacciono messi tutto in modo asimmetrico, che abbiano una certa armonia e, non mi piaceva una cosa, proprio, sputa così e, adesso, vi faccio vedere meglio, un pochettino, come è venuto con tanta pazienza, mi sono messa lì stamattina e, ho rifatto tutto l'albero ora, vi lascio la clip che avevo già girato stamattina ve la inserisco ora, vi faccio vedere come ho rifatto l'albero ecco, io preferisco così, veramente, come è venuto anche se, comunque, ringrazio Malika, che è stata carina a fare l'albero com'è però, diciamo, ci siamo più divertiti insieme abbiamo passato un po' di tempo scherzando con l'atmosfera antalizia e, vabbè, l'ho fatto due volte, pazienza dettagli dettagli praticamente hanno imparato anche loro a dire dettagli vabbè, anche Davide ogni tanto lo dice, dettagli bene, ora vado a mettere sugli spinaci che stessera faccio la frittata con gli spinaci e, che si vede dopo iniziamo a gongolare si rigongola, si rincomincia e non sapete perché si gongola ma presto ve lo dirò e me lo dice anche a me, a me lo appartiene perché gongoli? quando lo dirò lo saprà anche te comunque oggi è il giorno 27 ma è per la cosa dobbiamo fare il serio, amore? sì ah, amore oggi è il giorno 27 esattamente lunedì e mia moglie la mia cara mogliettina che è tutta stanca ma è adorabile ha già fatto due alberi di Natale sì e siamo diciamo vogliamo mettere un mese facciamo che sia un mese che facciamo che manca un mese a Natale perché non è un mese esatto ma diciamo anche che dovevi fare dovevamo fare l'albero di Natale insieme per il canale di coppia allora ma non ho avuto voglia e non l'ho dovuto fare da sola ma questi come dicete amore sono dettagli non mi aiuti a fare niente sono dettagli come dici te sono dettagli non mi aiuti a fare niente sono dettagli comunque sono dettagli no dovete sapere che non mi aiuto a fare niente ma sono dettagli faccio tutto io ma sono dettagli no sono dettagli sono dettagli comunque come si fa guardate l'occhio azzurro un dettaglio come si fa a fare a un mese l'albero di Natale allora io scoppio i petardi a un mese da Capodanno ma cosa c'entra gli addobbi vanno visti e goduti di più perché costano vanno visti e goduti quando uno li acquista ma lei c'ha l'arsenale di addobbi di Natale e comunque ne compro le nuove tu stamattina me ne hai comprato uno nuovo si perché lei è una bambina capricciosa non è vero ha voluto un fiorellino da mettere sull'albero di Natale 2 ore e 20 perché cosa bellissimo stupendo per un coso che metti sull'albero e che il 7 gennaio va via beh ma sono dettagli irrilevanti sono tutte c'è tante di quelle c'è un frusaglio comunque amore veramente c'è tante di quelle c'è un frusaglio sì non ti aiuto a fare niente perché sono come dici te sono dettagli però l'ho trovata una brava moglie fa tutto fa veramente tutto una donna bravissima con la verità è questa veramente brava dolce sensibile con un cuore grande 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 allora fa da mangiare fa i mestieri sistema la casa insomma fa quello che fa una vera donna di casa mi cura cura mia mamma cura la sua suocera cura la mia nonnina che è anche la sua fa tutto quello che fa una vera donna e sono fortunato ora vi saluto e ci sentiamo alla prossima top mi raccomando spolliciate ciao buona serata e buona cena a tutti ciao a tutti se vi è piaciuto il video mettete mi piace se non siete iscritti iscrivetevi mi raccomando top e ci vediamo al prossimo video un bacio grazie a tutti i nuovi iscritti iscritti di sempre e per il canale di coppia visto che l'albero dovuto fare io faremo il presepe insieme yeeeh mi ero dimenticata di salutarvi per bene e dirvi che al posto della cipolla sembra che c'è un cactus no vabbè c'è un cactus quindi io e il cactus vi salutiamo ah vi faccio vedere che stiamo giocando a berimba guardate anche in casa giochiamo a berimba sei pronta a perdere amore? non perdere ti ho lezioni che bello con lo sfondo natalizio dietro ah facciamo anche il room tour natalizio e i vlogmas li faccio per chi me l'ha chiesto li faccio e forse ci saranno fateci sapere se volete i vlogmas anche sul canale di coppia fatti da Davide ma cosa sono? i vlog di natale che si chiamano vlogmas puoi farli anche corti che non so però deve essere fatti tutti i giorni il vlogmas poi ovviamente c'è anche più l'extra un video magari non tutti i giorni c'è tipo il vlogmas fisso tutti i giorni e poi si aggiunge anche video extra normale tipo ciao scherzi così per quanto riguarda il canale di coppia per quanto riguarda il mio canale altri video quindi non lo so tu vuoi fare il vlogmas? vabbè canale di coppia vediamo comunque ci pensi? si sono stanco ragazzi è stanco si sono stanco è stanco bene e vi saluto col brufolo qua tipo unicorno uno qua e uno qua bacio ci vediamo la prossima ciao